10 delle frasi più belle di Ernest Hemingway Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare. Ora non è tempo per pensare a ciò che non hai. Pensa a quello che puoi fare con quello che c'è. L'uomo non è fatto per la sconfitta. Un uomo può essere distrutto ma non sconfitto. Il modo migliore per scoprire se ci si può fidare di qualcuno è di dargli fiducia. Siamo tutti apprendisti in un mestiere dove non si diventa mai maestri. Amo ascoltare. Ho imparato un gran numero di cose ascoltando attentamente. Molte persone non ascoltano mai. Preoccuparsi è dannoso come aver paura, serve solo a far le cose più difficili. Preferisco un nemico sincero a gran parte degli amici che ho conosciuto. Un uomo intelligente a volte è costretto a ubriacarsi per passare il tempo tra gli idioti. Codardia, è quasi sempre semplicemente la mancanza della capacità di sospendere il funzionamento dell'immaginazione.